Ciao a tutti da Fabio Caressa, insieme a me per la telegradica di oggi, Luca Marcheggiani. Ciao Fabio, ciao a tutti. Vuole la profondità, opportunità di ripartire. Può calciare a rete, può colpire. Palla vagante. La difesa può tirare un sospiro di sollievo. Non puoi concedere queste ripartenze a una squadra famosa per l'abilità in contropiede. Stavolta è andata bene, stavolta. E sulla palla, i compagni aspettano il traversone. E il portiere la fa sua. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Sicuro qui l'intervento del portiere. L'azione era partita bene, non sono riuscita ad arrivare in aria. Prova il filtrante. Può andare alla conclusione. Cerca il secondo palo. C'è il colpo di testa! Ottima l'azione. Conclusione però non all'altezza. Arnautovic ha dimostrato che gli inserimenti dei centrocampisti sono un'arma imprevedibile ed estremamente efficace. Cerca spazio. Prova la giocata nello spazio. In cornata! E ce l'avete! Gol di grande opportunismo, sfruttando il flipper che si era creato. Questo è quello intuito che ti fa capire prima dove finirà il pallone. È una dote fondamentale in area di rigore. Davvero una grande partenza, un ottimo inizio. Prova la soluzione in profondità. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Fuchs. Palla giocata alta sulla fascia. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. È avanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Lungo passaggio in avanti. In qualche modo sono riusciti a cavarsela. Pallone alto e lungo sulla fascia. Fuchs. Prova il filtrante. Cerca lo spunto. Posizione regolare. Bella fortuna ha dato loro una mano in questa circostanza. grande progressione sulla destra, ma i compagni non lo assistono. Buona la progressione a sinistra, ma non ci sono grandi spazi. Quest'azione, mancata un po' di inventiva forse. Cercavano lo spazio per affondare, però non l'hanno trovata. Passaggio sulla destra. Prova a passare la difesa, scavalcandola col pallone profondo. Palla giocata alta sulla fascia. Cross verso il centro. Cross allontanato, niente di fatto. Palla in profondità sulla fascia. Ecco il corner. Salta e colpisce di testa. Ce l'hanno fatta. Una grande reazione. Ora la partita si fa ancora più interessante. Bel calcio d'angolo, il perfetto colpo di testa. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione. Gran colpo di testa. Si ricomincia da una situazione di parità. Primo tempo che si conclude dunque qui. Gli avversari saranno sicuramente contrariati per il pareggio, ma la squadra ha spinto tantissimo nella seconda metà del primo tempo. E quindi alla fine del tempo.